Siamo in un gruppo, non è un gruppo, è una realtà. È una realtà che realizza costumi, props a livello veramente, veramente alto e professionale. Parlo in generale, abbiamo detto supereroi perché sono specializzati in quelli che sono i costumi e gli accessori dei supereroi, ma non solo, infatti saranno sul palco con un costume dedicato al mondo degli anime giapponesi. Alla vostra destra, qui alla nostra sinistra, vedete che c'è un Gundam e tutti quanti i loro accessori. E allora fate forte l'applauso per i ragazzi di Wayne Factory! Grazie per la visione! E fatelo, fatelo forte l'applauso per i ragazzi di Wayne Factory! Ed io lascio la parola ad Antonio Gallo, raccontaci un po'. Prima di tutto volevo ringraziare gli amici di Epicos per l'occasione che ci hanno dato. Noi ci occupiamo di creazione di costumi legati al mondo dei cartoni, dei fumetti, dei videogiochi, accessori. Quindi se avete voglia di venirci a fare un saluto, chiedere qualche informazione, siamo sempre a vostra disposizione. Grazie a tutti! Grazie a voi! E buon divertimento! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!